Siamo condannati a una bellissima esperienza perché credo che da parte di tutti ci fosse la volontà di fare qualcosa di nuovo, di diverso, che fosse coerente con quanto noi avevamo fatto fino a questo momento con le nostre carriere soliste, ma che ci desse la possibilità di offrire al nostro pubblico qualcosa di diverso e di più completo. E di non strategico. Esatto, perché non è assolutamente scontato riuscire a condividere il palco con due colleghi, condividere i camerini con due colleghi e condividere la vita di tutti i giorni anche fuori dal tour vedersi indipendentemente dagli impegni di lavoro. Questo credo sia stato poi l'ingrediente chiave, cioè l'intesa che c'è tra noi al di fuori e fuori dal palco ci ha permesso di ottenere un risultato così forte anche sul palco. Sì, diciamo che il motivo per il quale questa avventura è cominciata, che è appunto questa unione, questo sentimento che c'è tra di noi, questa gogliardia anche, è diventato poi il motore di tutto lo spettacolo. Credo che quello che apprezzi di più il pubblico sia proprio questo clima che si instaura anche ogni volta sul palco e questa energia che continua, è un rimando continuo tra noi e loro, è un divertimento senza fine. Credo che questa cosa sia in realtà, come ho detto, non solo l'idea principale dalla quale è nata tutta questa operazione, questa avventura, questo sogno che si realizza, ma è diventato anche il carburante di ogni concerto. Sarà difficile tornare indietro, nel senso che io adesso comincio a pensare, vabbè adesso il tre ripartiamo, poi abbiamo, vabbè, alla fine si tratta di qualche mese di lavoro, poi tornare al camerino da solo, con la tua assistente che ti dice vuoi il tè, sarà difficile insomma, perché vi assicuro che non è una festa che riusciamo a improvvisare ogni volta sul palcoscenico, ma in realtà è qualcosa che continua da quando si parte da casa a quando si arriva lì, quando si finisce lo spettacolo, si va a mangiare o si va da qualche parte, quindi tornare alla solitudine sarà veramente difficile. Il momento giusto era questo, perché abbiamo avuto la possibilità di arrivarci in un momento della nostra carriera in cui magari nessuno di noi doveva dimostrare niente a nessuno, eravamo sereni con noi stessi e con le nostre carriere, e quindi abbiamo potuto veramente fare un gioco di squadra lasciando perdere ogni individualismo. A noi che cosa ha dimostrato? Il fatto già di coesistere, che non è scontato, il fatto di condividere lo stesso palco, il fatto di ricevere tutti e tre gli applausi, quindi non è l'applauso rivolto solo a uno, ma è rivolto a tutti e tre, forse un po' più a me rispetto agli altri due, però insomma... No, ma abbiamo anche dimostrato, io perlomeno ho capito che ho ancora entusiasmo, voglia di cose nuove, di mettermi in gioco, in discussione, di divertirmi, dopo tanti anni di lavoro, di routine anche se vuoi, perché alla fine il nostro lavoro, nonostante sia meraviglioso, può diventare una routine, no? Tu pensi un lavoro, un disco, lo fai, lo produci, lo realizzi, lo pubblichi, poi lo promuovi, poi fai un tour. Ecco, invece il fatto di aver avuto la possibilità di inventarsi una cosa a questa età, totalmente nuova dopo tutti questi anni di lavoro e non solo aver capito che era una buona idea per noi, ma che probabilmente era qualcosa che l'attente e anche il nostro pubblico immaginava e voleva, significa anche rendersi conto di essere ancora connessi con quella che è la gente che ti sta intorno, il tuo pubblico e non solo.